Alle prime luci dell'alba di oggi, i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di sette persone, una in carcere, cinque agli arresti domiciliari ed una sottoposta all'obbligo di dimora, tutte ritenute responsabili di traffico organizzato di rifiuti e inquinamento ambientale. In carcere Luigi Cardiello, già oggetto di numerose indagini in materia ambientale condotte dalla Procura di Napoli e Santa Maria Capoavetere tra gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, che ieri erano valse il soprannome di Remida dei rifiuti, Operazione Remida e Cassiopea. Le attività di indagine coordinate dalla DDA condotte dal Nucleo Investigativo di Salerno e dalla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina costituiscono un autonomo filone dell'inchiesta che è stata denominata Febbre dell'Oro Nero, relativa ad un vasto contrabbando di idrocarburi, nel corso delle cui captazioni era emerso in forma assolutamente chiara l'impegno di Raffaele Diana, già coimputato assieme a Cardiello, nelle indagini Mida e Cassiopea, di agevolare l'ex compagno d'affari nella ricerca di nuovi siti di illecito stoccaggio e sversamento per rifiuti pericolosi, frutto di lavorazione industriale. L'organizzazione delittuosa è risultata particolarmente pericolosa per avere piena disponibilità di terreni di proprietà degli indagati, i cui fondi sono stati trasformati in discariche costituite per la maggior parte da liquami composti da acidi, dannosissime per le ripercussioni sull'ambiente e con alterazioni incalcolabili e forse irreparabili per l'ecosistema. L'orizzonte investigativo è stato necessariamente contratto in ragione delle preminenti esigenze di salvaguardia del territorio. L'indagine, infatti, ha avuto il compito di impedire che i continui sversamenti trasformassero il Vallo di Diano nella nuova terra dei fuochi, a disposizione della criminalità organizzata campana. Le successive operazioni di scavo, campionatura ed analisi svolte assieme all'ARPAC hanno quindi permesso di certificare come il terreno fosse stato avvelenato da precedenti sversamenti, situazione già peraltro evidente dalle fotografie aeree eseguite con droni, le quali palesavano nei territori oggetto di sversamento chiazze colorate che hanno poi guidato con successo le operazioni dell'ARPAC, i cui esami evidenziavano la presenza di rifiuti speciali pericolosi rientranti nella categoria HP 14 ecotossico. Quanto rilevato oggettivamente dalle investigazioni svolte, assume connotati di drammatica importanza nelle misure in cui il territorio interessato è qualificato area naturale protetta, essendo parte della riserva naturale Foce-Sele-Tanagro. In tale maniera si è quindi impedito che l'organizzazione allargasse il proprio raggio d'azione ad altri siti, in parte già individuati nel comune di Contursi e in parte oggetto di una pianificata espansione ancora a livello embrionale nella provincia di Foggia. Solidi riscontri al quadro probatorio già delineato sono arrivati dalle dichiarazioni fornite da uno dei complici non inserito nei destinatari di misura cautelare, altrettanti se ne prevedono dalle successive attività di scavo.